Umimi convoco a tutti, sono su Fear, uno sparatutto, credo, horror, mi è stato consigliato da Chip e ho intenzione di farlo. Allora, dovrei... ok, non si può mirare, non si può mirare, perfetto. Ho rotto le barre, ok, sono passato, ok, ho sparato tutto il horror, non me lo so spoilerata, diciamo non ho visto come si gioca e che cosa si fa, perché appunto volevo giocarlo così, senza conoscerlo. Da lì non si può passare, credo, perché non mi ha fatto rompere le premie F, ho aperto la porta, ok. Che cazzo, ah, un topo, mannaggia il topo, vieni qua. Oh, 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 ok, è morto, ma è stato un topo, perfetto. Come dicevo, uno sparatutto, credo, in prima persona horror, il volume ce l'ho, credo, al massimo, premio X, ok. Ho premuto X per accendere la luce della pistola, sempre F per aprire. Oddio, che cazzo, ah, no, oddio, è l'amico, non si può correre, apri. Ah, tu vai dall'altro lato, ok, da qui, qui, no, aspetta, questo è il cesso, cesso, ok. Bim, al primo colpo ho preso il topo stavolta, vabbè, comunque, vediamo un po' che cacchio... Che ho preso? Ah, ho preso la vita, credo. Boh, vabbè, comunque, vediamo un po' dove possiamo andare. Ok, io ho aperto la porta, apri? Non si apre? Ah, c'è una panca che... Questa panca qui c'è, pure di là. Che cazzo è? Eh... Che cos'era? Chi è che sta parlando? Premici per abbassarti, ok. Io ho visto uno passare. Che cazzo sono sti rumori? Non so se voi li sentite, io li sento. Ok, ho alzato un attimino il volume, perché non sentivo niente, poche parole. Ok, adesso sento benissimo. Sento i passi... Oh, mi devo abbassare per passare, ok. Io non so qual è l'obiettivo del gioco. Seriamente non lo so quale sia. Da qui siamo già passati, giusto? Sì. Quindi devo proseguire per di qua. Salta. Ho sentito piangere qualcuno. Ho sentito fare... Di qualcuno. Ho sentito... Di qualcuno. Vabbè, passiamo di qui. Era una seggiola. Una sedia. Però questo... Ah, si muove. Ok, così. Cioè, sto girando intorno, non so dove devo andare. Ah, ok, di qui. Ok, ho rotto il coso. Ok, io ogni cosa che vedo rispondo con il fuoco. Non si può aprire. Che ca... Ah, è l'alleato. Ok. Ok. Ah, proprio, sì, sì. Grazie. Dimmi. Che devo fare? Vai! Che cazzo è? Che sta succedendo? Perché si è scritolato? Chi è che parla? Perchè è morto quello? Chi cazzo è quello seduto? Allora, nonché la grafica non sia, diciamo... Cioè, non c'è da aspettarsi chissà che cosa, ma va sicuro che il batticuore lo dà. Cioè, lo dà il batticuore a sto gioco. Anche se la grafica non è... Che ca... Ma vaffanculo! Moto? Ma che famma mia... Chi è? Chi è? Dov'è? Io vedo passare le persone. Io vedo passare le persone. Io vedo passare le persone. Non sto scherzando. Vedo passare le persone. Apriti. Io vedo passare le persone quando mi muovo. Che cos'è successo? Che cos'è successo? Chi cazzo è sto Joker qui? Cioè, come dicevo... Anche la grafica non è che sia, diciamo... Chissà che cosa. Un gioco vecchio. Però la FIFA la mette. La FIFA la mette. La FIFA la mette. Ok. Ok. E rientra nel team. Dove sono gli altri? Ok. Però che vuole da me quello lì che è comparso? Vabbè. Cerco di ritornare al team. Da qui. Ok. Ok. Siamo soliti di qui. Ecco. Eccoci. Che dici tu? Che dici tu? Che dici? Dai. Ok. Fatto? Il livello è superato? Che cos'è? Chi è che piange? Che c'entrano i bambini? Che piangono con uno come quello? Vabbè. Che... Che... Schippo? Ok. L'ho schippata. Bene. io prima di continuare io stoppo il video spero vi sia piaciuto io mi sono davvero spaventata e non poco se questo video e se questo gioco vi piace, se volete vedermici giocare, ditemelo nei commenti perché probabilmente lo farò, lo finirò forse anche, se riesco probabilmente lo finirò se mi date voi, mi dite guarda fallo, giocalo, io lo finisco anche non me lo sono spoilerato, non conosco nulla di questo gioco, non sapevo neanche dell'esistenza di questo gioco prima che me lo dicesse diciamo Chip e che me lo prestasse anche e niente, al prossimo video se ci sarà, dipende tutto da voi